Lasagne ai carciofi e ricotta. Siete alla ricerca di un primo piatto ricco e saporito da preparare in occasione di una cena con gli amici. Le lasagne ai carciofi e ricotta sono la scelta ideale. Un piatto delizioso, facile e veloce da preparare, per deliziare i vostri commensali con un gusto unico. Gli ingredienti principali di questa ricetta sono la pasta per lasagne, i carciofi, la ricotta, la besciamella ed il parmigiano. Si tratta di una preparazione vegetariana e poco calorica, ideale anche per chi segue una dieta equilibrata o una dieta dimagrante. Ecco gli ingredienti necessari per preparare le lasagne ai carciofi e ricotta. 500 g di pasta per lasagne, 6 carciofi, 1 cipolla, 500 g di ricotta, 100 g di parmigiano grattugiato, 200 ml di besciamella, un cucchiaio di prezzemolo tritato, sale e pepe cubi. Ora passiamo alla preparazione delle lasagne ai carciofi e ricotta. Iniziate pulendo i carciofi, eliminando le foglie esterne più dure e di gambi. Tagliateli a fettine sottili e fateli rosolare in una padella con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio e la cipolla. Nel frattempo, portate a bollore abbondante acqua salata. Cuocete la pasta per lasagne e scolatela al dente. Preparate la besciamella facendo fondere in un pentolino 40 g di burro, poi aggiungete 40 g di farina. Mescolate a fuoco basso e unite a poco a poco il latte. Salate, pepate e mescolate fino a quando non si sarà addensata. Prendete una teglia e iniziate ad alternare strati di pasta, carciofi, ricotta, besciamella e parmigiano. Procedete in questo modo fino a che non avrete terminato gli ingredienti. Terminate con uno strato di besciamella, parmigiano e prezzemolo tritato. Cuocete le lasagne ai carciofi e ricotta nel forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 30 minuti. Sfornate e servite le lasagne ai carciofi e ricotta ben calde. Le vostre lasagne ai carciofi e ricotta sono pronte! Un piatto ricco, saporito e facile da preparare, ideale per una cena in compagnia. Buon appetito!